Vinitaly 2012 altissima la presenza da parte di pubblico italiano ma sempre più alta la presenza di buyer internazionali interessati al mercato del vino italiano iniziamo subito con le nostre interviste. Campo alla Sughera sono con Rita Tonini ormai come ogni anno questo bell'appuntamento per fare una chiacchierata di vino senti Rita la prima cosa che volevo chiederti quest'anno il cambiamento di Vinitaly si cambiano le giornate non più dal giovedì alla domenica ma dalla domenica al mercoledì qual è la vostra percezione? Noi quest'anno siamo rimasti soddisfatti alla prima prova anche per noi questo Vinitaly è partito con una domenica che al nostro avviso è stata molto molto interessante un po' meno pubblico generico e già importatori dalla domenica probabilmente approfittando delle bigliettieri più bassi il sabato. Senti quest'anno che cosa che cosa presentate al Vinitaly quali prodotti state proponendo ai buyer le persone che vengono qui nel vostro stand? Quest'anno stiamo presentando in anteprima le nuove annate dei nostri prodotti quindi per i bianchi abbiamo la nuovissima e appena imbottigliata annata 2011 sia per la Kenio che per la Rioso e per i nostri rossi abbiamo le nuove annate per il Bolgheri Superiore Arnione l'annata 2008 che sarà breve sul mercato e il Bolgheri Rosso con l'annata 2010 appena imbottigliata e il Cru, la nostra selezione di Petiverdo Campo alla Sugara annata 2008. Senti ma il pubblico italiano sicuramente sempre molto presente qui a Vinitaly ma gli stranieri chi è più curioso o se c'è un mercato nuovo che si sta avvicinando al mercato italiano ma in particolare alla vostra azienda? Devo dire che la curiosità quest'anno è senz'altro dal sud-est asiatico quindi si sono fatti vivi nuovamente alcuni importatori dal Giappone e un'affluenza anche di importatori dalla Cina e qualche nuovo mercato, faccio un esempio un po' inusuale dell'Indonesia. Quindi insomma anche qualche novità e a proposito di non novità ma sicuramente di una cosa che quest'anno sta uscendo in modo abbastanza forte, parliamo di unione cibo e vino che mi sembra anche abbastanza così scontato però so che voi state preparando delle sorprese qui all'interno dello stand. Sì quest'anno abbiamo voluto creare questo evento nell'evento legando sempre di più i nostri grandi vini toscani al cibo, cibo naturalmente toscano e abbiamo fatto sia una presentazione di un nuovo marchio, un marchio giovane di proprietà di persone giovani che si chiama Bulgari Più che presenta moda, design e food e quindi abbiamo fatto questo tipo di lancio qui al Vin Italy, molto molto interessante è stato e poi abbiamo oggi un evento invece legato proprio al cibo con due chef della Scuola Internazionale di Cucina Apicius di Firenze, un pastry chef e un executive chef che ci presenteranno in abbinamento ai nostri vini e alla nostra grappa due piatti molto molto interessanti. E ora vedremo le immagini di questo evento che lega cibo e vino che ci intriga molto. Abbiamo una guancia di manzo brasata a bassa temperatura 65 gradi per 14 ore fino a tenere una consistenza morbidissima, è abbinata una spuma di patate allo zafferano, carote saltate al rosmarino, noterete questa nota piccante di peperone, peperoncino e lampone, è una composta che ho collocato sotto la spuma di patate, a dare appunto un contrasto in più a rendere il piatto più interessante. Allora abbiamo un clafoutis all'uva macerato 24 ore nel campo alla sughera che è un petit verdot, dopo di che abbiamo more tagliato a cubetti, una salsa ai frutti rossi, una glassa specchia al cioccolato e una chantilly di cioccolato, macarons con semi di papavero e una decorazione di cioccolato con semi di papavero. Avete diversi abbinamenti, si va dal petit verdot all'arnione, addirittura la grappa. Ho cercato di racchiudere tutte e tre le associazioni di vino, con il clafoutis lo vedo molto bene con la grappa, abbiamo questo miele, questo dolce che si sposa bene con questa grappa molto morbida. Frutti rossi, argnone, cioccolato, macarons e semi di papavero molto bene con il petit verdot che ha questa nota molto speziata. Come ogni anno, Vinitaly non è solo vino, ma è anche tutto ciò che è intorno al vino, quindi anche accessori. Siamo all'interno della sezione Enolitec e siamo venuti a trovare Pultex, nel particolare Pultex Italia. Siamo con Corrado Guerranti che ho il piacere di rincontrare e prima di tutto vorrei chiedere a Corrado che cosa ne pensa del cambiamento delle date di questa manifestazione. Interessante ma un po' sconvolgente, però comunque per fortuna è sempre una grande manifestazione che ha portato comunque tanta gente e per noi è molto importante. Ecco, vogliamo ricordare un attimo Corrado ai nostri telespettatori chi è il Pultex, che è un'azienda spagnola, ma tu Pultex Italia rappresenti questa azienda in modo molto forte su questo territorio. Pultex è un sogno di Corrado incontrato 20 anni fa, che alla fine è stato preso un po' abbracciato da me, con lo gusto italiano, con la voglia di far vedere che cosa siamo e di se ne abbiamo. Gli spagnoli sappiamo che sono i nostri vicini, hanno un loro valore, però naturalmente il gusto italiano è un'altra cosa, quindi colori e novità vengono un po' da questa fusione del gusto spagnolo e italiano. La Pultex ha fatto una collezione di prodotti vicini al vino, di servizio, di conservazione, di oggetti che cerchiamo di essere sempre innovativi, ma è molto difficile perché alla fine non è che possiamo inventare chissà che cosa. Però comunque ci proponiamo con accessori sempre più innovativi, più colorati, più giusti per ogni presentazione e ogni situazione. Ecco, infatti voi avete veramente tantissime cose, tra l'altro anche divertenti, no? Perché il colore, le forme sono prodotti sicuramente di utilità, no? Per tutto ciò che riguarda il mondo del vino. Ecco, ci vuoi dire? Vedo tante cose magari che già conoscevo, però in delle nuove confezioni, nuove formule. Sì, perché abbiamo costruito, per esempio, questi nuovi kit per avere la strumentazione per come conservare una bottiglia di champagne non finché si finisce subito e che si può ritappare e riavere. Poi invece abbiamo fatto un altro più, un kit più complicato, in senso che c'è ancora fredda vino, c'è la solita pompetta e addirittura i primi cinque aromi per imparare un po' quando si annusa o si prova a assaggiare un vino per parlarne un po', perché altrimenti sempre diciamo mi piace o non mi piace, ma dobbiamo un po' cominciare a dire se è a floreare, se è fruttato, se è qualche difetto e così do in sequenza altri due accessori per l'apertura della capsula e per non versare le gocce. Beh, assolutamente, insomma, mi sembra una cosa divertente questa qui. Tra l'altro voi avete due tipi di gamme, no? C'è una gamma che va direttamente a un consumatore, che appunto può essere anche un consumatore neofita in qualche modo, che però ha voglia di conoscere il vino e poi andate invece su tutto ciò che è l'oreca, quindi insomma le noteche, aziende vinicole. Noi soprattutto vogliamo dividere in questo, noi siamo da tanti anni produttori di avatapi per le aziende agricole, cioè la parte promozionale, noi siamo al servizio della promozione dell'azienda, quindi il nostro fatturato, il nostro cliente ideale è l'azienda agricola, però allo stesso tempo abbiamo costruito degli oggetti per l'utente finale, perché anche l'utente finale è sempre più esigente, consuma bottiglie di vino molto più costose, è un appassionato e quindi ha bisogno di accessori. Però la nostra parte soprattutto è in cavatappi professionali per la promozione del vino. E poi voi avete questo sistema, li uso anch'io i vostri cavatappi, è molto utile anche effettivamente a chi non ha la dimestichezza, che può avere un addetto ai lavori. Ecco, tra l'altro abbiamo la fortuna anche di avere Alessandra con noi, che è una rappresentante in varie regioni in Italia del prodotto Pultex, che ha la possibilità proprio di toccare con mano e di rendersi conto anche un po' il mercato, quello proprio più dei professionisti, quindi delle cantine, come reagisce ad una gamba di prodotti che è sempre molto variegata e molto ampia. Sì, infatti le cantine sono sempre alla ricerca di prodotti nuovi da poter proporre ai loro clienti, come diceva prima Corrado, sono dei prodotti che nascono per parlare delle aziende che parlano di vino in questo caso. E quindi tutti i prodotti sono brandizzabili della linea wine tools e le cantine sono sempre alla ricerca comunque della novità, di qualcosa di diverso. Quest'anno proponiamo esclusivamente cose colorate, quindi ci stacchiamo un po' dai colori tradizionali e tutti questi articoli che sono arrivati, come dicevate prima, hanno queste caratteristiche. Sono nuovi proprio anche nel concetto del prodotto, quindi materiali sempre innovativi. Le cantine conoscono il nostro prodotto, sanno riconoscere il cavatappi Pultex, come i cavatappi e di conseguenza questo comunque rimane il modello più conosciuto in Italia ma anche al mondo dei cavatappi professionali utilizzati nel mondo del vino, da professionisti e non. C'è stato un prodotto, una gamma di prodotti che ha incuriosito di più qui ad Enolite? Sicuramente i nuovi tappi di silicone sono stati il prodotto che ha incuriosito di più e che ha catturato maggiormente l'attenzione e quindi questo dimostra il fatto che c'è più voglia di assaggiare le bottiglie, che sennò chiederebbero anche altri articoli. Quindi assaggio la bottiglia e uso qualcosa di veramente efficace per tenerla temporaneamente tappata finché non ho il tempo e lo spazio per ribermi il mio bicchiere di vino. Alessandra, se tu dovessi esprimere con un concetto, con una frase, che cosa fa Pultex per le aziende, che cosa diresti? Beh, direi che Pultex è al servizio della vostra comunicazione e direi che questo rappresenta la sintesi di quello che abbiamo detto fino ad ora.